Amici di Euromusica, siamo accompagnati di un artista, una cantatrice dalla meravigliosa terra del Ticino, ci porta alla scoperta del suo favoloso mondo grazie al suo ultimo singolo. Siamo insieme a Julie Meletta. Ciao Julie, bentrovata. Ciao Beppe, ciao a tutti, grazie mille per questo spazio. Il tuo ultimo singolo fanfiction, per dire un po' la francese, ce lo vuoi raccontare? Allora, un singolo che parla di un amore ossessivo, sai quando nella vita in un rapporto, in una relazione sana, quando la cosa vedi che è unilaterale, cioè dall'altra parte non c'è più interesse, interesse in una relazione sana dove si dire ok, vado avanti con la mia vita e basta. E invece in una relazione non sana, cioè in uno state of mind non sano, ti dici no e ti impunti e continui. E continui a rivivere la cosa nella tua testa anche se è palesemente finita, ma tu proprio non te ne puoi capacitare. Ecco questo sentimento malsano e racchiuso in questa canzone, fanfiction. Non è il tuo primo lavoro musicale, vieni da un album, anzi da un EP, e tra l'altro è andato molto bene, si è fatto ascoltare, è entrato nell'airplay svizzero, nella top 50 e tra l'altro sei nel bel mezzo di un mini tour, un bel vortice di musica. Sì 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 esatto, fanfiction è il seguito di Chic, questo EP che è uscito l'anno scorso, è vero abbiamo avuto fortuna diciamo perché è stato è stato ben accolto e adesso stiamo facendo questo piccolo tour svizzero toccando un po' le varie zone, ho dovuto rodare anche un po' il mio tedesco, beh però non è stato facile ma qualcosa è saltato fuori, non so bene cosa ma qualcosa è uscito. Ebbè insomma diciamo già tu fai un bel mispione con le lingue tra l'italiano e il francese, l'inglese anche, ho ascoltato un po' della tua musica naturalmente prima di programmare questa intervista e ho sentito letteralmente varie lingue utilizzate ma poi anche nella tua attività parallela in radio in cui parli naturalmente in italiano e il fatto di venire da una terra e a diverse lingue ufficiali un po' ti aiuta? Sì allora devo dire che essendo io francese cioè sono di madrelingua francese poi vivo nella Svizzera italiana però il francese è la lingua con cui sono cresciuta quindi baro in questo senso non è che l'ho imparato dopo mi è stato un po' regalato e poi vabbè l'inglese ormai lo dobbiamo lo dobbiamo conoscere almeno un pochino per muoverci nel panorama musicale anche per le public relations come si dice e il tedesco beh ci si prova non è facile ma ci si prova adesso dicevamo sei nel bel mezzo di un mini tour e tra l'altro ti porta a far ascoltare la tua musica ho visto l'altro giorno eri a Lugano adesso ho visto anche su Instagram l'annuncio di un prossimo concerto se non vado errato nella Svizzera francese Sì 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 eravamo proprio l'altro ieri a Berna per un concerto domani no non domani giovedì saremo a Lausanna venerdì a New e sì ci stiamo stiamo facendo tanti chilometri sto scoprendo un po' la vita da tour perché onestamente è la prima volta che lo fa cioè ho delle date più ravvicinate e devo dire che è stancante però porta anche tante soddisfazioni e soprattutto ci si diverte soprattutto se si ha un bel team Adesso tra l'altro ti stai preparando anche per un nuovo album per un nuovo lavoro e uscirà a ottobre puoi anticiparci qualcosa? Sì allora è una raccolta di allora aspetta faccio una premessa io non ho mai scritto o raramente perché non mi piacciono tanto le canzoni d'amore perché mi sembravano sempre una cosa un po' già fatta rifatte quindi con un po' di snobismo dicevo non ne faccio Invece questa volta faccio una terapia d'urto quindi questo secondo epi saranno solo canzoni d'amore d'amori andati male amori tristi amori folli voglio che ci sia un po' di pazzia in tutto questo E sarà appunto una raccolta che si chiama Amar coeur che è un gioco di parole tra Amar cord quindi Amar cord parola romagnola mi ricordo nonché film di Fellini e coeur che è la parola francese per cuore E quindi saranno dei ricordi cose di cui ti ricordi del passato ma di di cuori infranti e saranno cinque pezzi tutti in francese lo stile è sempre un po' quello che si ispira alla musica ye ye francese anni 60 70 e vediamo vediamo che cosa succede fan fiction appunto è il primo singolo estratto Adesso tra l'altro siamo in pieno periodo eurovisivo perché tra pochissimo iniziale Eurovision Song Contest la Svizzera quest'anno parteciperà con Nemo so che conosci molto bene il brano l'ho sentito diverse volte anche in radio e ma sentiremo mai un tuo pezzo lì su quel palco? Ti presenterai alla selezione l'anno prossimo? Non lo so non lo so mi ero presentata diversi anni fa prima che uscisse chic avevo mandato il brano chic ed era ed era tra gli ultimi alla fine era nel ballottaggio poi hanno scelto non so più se fosse Remo forse era Mario Sbera ancora era l'anno prima E poi non ho più mandato niente perché non lo so sento che devi avere il brano giusto per l'Eurovision non me ne sono mai sentita di scrivere il brano apposta per l'Eurovision penso che ci che sarebbe qualche cosa di di è proprio di quel mondo lì con quell'impatto e penso che il brano di quest'anno Nemo possa io penso che possa non voglio gufarla però secondo me ha delle buone probabilità di vincere E se ci andrò io ma chi lo sa rimarrà il punto di domanda Va bene lo speriamo e intanto invitiamo tutti i nostri lettori ad ascoltare il tuo ultimo singolo fan fiction e a lupo per tutto grazie per averci concesso il tuo tempo e mi raccomando a tutti voi che ci state leggendo andate ad ascoltare la musica di Giulia Meletta Grazie Beppe un abbraccio a tutti